Sai come si chiama questo quadro e chi l'ha dipinto? Il dipinto si chiama Perseo e Andromeda, ed è un dipinto ad olio di Lord Frederick Layton. Completato nel 1891, anno in cui fu esposto alla Royal Academy of Arts, raffigura la storia mitologica greca di Andromeda. In contrasto con la base di un racconto classico, Layton ha utilizzato uno stile gotico per l'opera d'arte. Il dipinto è nella collezione del National Museums Liverpool presso la Walker Art Gallery.